Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo gameplay qui su Zotac Vlogs Allora ragazzi, guardate un po' cosa ho combinato Il nostro impero nanico ha raggiunto finalmente un nuovo stadio ragazzi Quello del castello medievale, e vai, finalmente Ragazzi ho sbloccato una nuova tecnologia come vedete qua Qui praticamente ho sbloccato questa parte che veramente utilizza per la maggior parte delle cose la stone Praticamente la pietra, quindi come vedete quasi tutte le cose vogliono che utilizziate la pietra Quindi ho dovuto procacciarmi un bel po' e veramente ragazzi mi piace un casino ora com'è la casa Perché dà proprio un senso del castello imponente Anche dal punto di vista dell'equip ragazzi come vedete ho sbloccato questa nuova tecnologia Che riguarda le armature fatte in pelle ragazzi sono molto molto più fighe Soprattutto l'elmo mi piace veramente un casino da veramente il senso di nano di Erebor Allora, procediamo, vi faccio vedere un po' qua sotto Come vedete qui, un secondo che devo chiudere in questo buco che mi ero dimenticato di dirgli di chiuderlo Qui praticamente ho posizionato questo ragazzi che è il workshop Come vedete c'è scritto qua Questo è praticamente il banco da lavoro diciamo che vi dà la possibilità di creare tutti questi altri oggetti Quindi senza il workshop non potete procedere Poi per quanto riguarda invece quelle specie di torrette che vedete in alto sul tetto Come vedete si craftano così, si mette un pezzo di oblo qua sotto Della argilla e poi praticamente tutto il resto Veramente veramente figo ragazzi, mi piace veramente un sacco il nuovo look della casa Di fianco come vedete ho messo delle colonne nere a sostegno del tetto Mentre qua sotto ho anche aggiunto un nuovo letto un po' più lussuoso, un po' più efficace Quindi i nani si riposano meglio, almeno l'unico nano che per il momento lo usa si riposa meglio Qui sotto con un aggiornamento mi sono accorto ragazzi che hanno cambiato l'aspetto esteriore dello smite Vi ricordate che prima era un bancone grande tutto in metallo scuro Adesso l'hanno reso un po' più di pietra con questo algeggio, veramente molto carino Qua sotto ho messo queste poltrone che danno sempre più comfort alla casa E anche queste due diciamo librerie con questi scaffali sono molto, sempre nell'ottica insomma di dare sempre più comfort ai nostri nani Allora cominciamo a craftare qualcosina, io avevo visto qualcosa di interessante sempre qui Questo solid backpack ragazzi mi sembra veramente molto interessante Noi abbiamo già craftato il backpack normale che è questo qui Ma con questo solid backpack diciamo che i nani hanno la capacità di portare sempre più oggetti contemporaneamente Però la cosa che più mi preme ragazzi per questo video è questa, la wooden tower Vorrei portare veramente a un nuovo stadio la difesa della casa con questa torretta che dovrebbe sparare a vista ai nemici Veramente ragazzi una figata Però mi manca, per craftarlo mi manca questo, lo steel che invece si crafta con del metallo Quindi dobbiamo andare a cercare il metallo qua sotto Allora vediamo un po', tipo qua ne vedo un po' quindi prendetemi questo magari Ah questo altro abbiamo trovato, però questo quello lo tolgo Qua sotto abbiamo trovato swimmer book, perfetto adesso lo andiamo a dare a qualcuno Così almeno qualcuno ci diventa swimmer se non ne ho già uno Vediamo, swordsman miner, climber miner, fisher Magari il fisher lo faccio diventare anche swimmer quindi si facciamo use, ok perfetto Quindi fisher e swimmer perfetto, tutto sull'acqua lui Allora andiamo a cercare qualche giacimento un po' più grosso di ferro Perché là vedo che è un po' sparso magari Quindi non mi sembra molto Tipo lui cosa sta? Ah ok no niente ok Qua sotto ho già dato il comando ai nani di andare a prendere il carbone che ho visto un bel giacimento qua sotto Quindi andava benissimo lì perché poi mi sono accorto che comunque il carbone lo utilizziamo per quasi tutte le cose Quindi ho detto prendiamocelo un po' di scorta Qui ragazzi come vedete ho chiuso tutto il ponte che vi dicevo l'altra volta così finalmente possiamo arrivare dall'altra parte senza dover per forza nuotare E... Ah cavolo è vero hanno finito il cibo Non me ne ero accorto Andiamo a craftare qualcosina per mangiare per i nostri nani Vediamo un po' qua Allora sul pesce dovrebbe... esatto potremmo fare questa qua che è la zuppa di pesce così almeno ne fanno un bel po' Perché solo un comando dovrebbe craftarne tipo 10 Quindi va benissimo Allora andiamo col carbone che come vi dicevo prima vedete quanto ne utilizziamo anche solo per cucinare Quindi adesso gli ho dato il comando Intanto andiamo a prendere qualcos'altro da mettere sul tavolo perché non voglio lasciarli senza cibo finché finiscono di cucinare Prendiamo questa grilled meat la mettiamo sul tavolo La metto qua al posto delle torce da giardino quindi la due bistecche perfetto Così almeno i più affamati vanno subito ad accaparrarsene E poi andiamo a dare ancora qualcosa vediamo se abbiamo ancora qualcosa da dare da mangiare Tipo queste insalate va benissimo quindi la prendo E cominciamo a dare le insalate così un bel po' di cibo ce l'hanno dai Intanto cucinano il pesce e gli mettiamo anche il pesce Ok allora loro si sono già attivati per andare a scavare le nostre miniere Vediamo qua sotto di mettere altre scale Il ferro lo stanno prendendo e quindi a posto così vedo che ci sono comunque altri giacimenti qua di fianco Quindi gli darei il comando per andare a raggiungerli Così almeno ci prendono tutti questi minerali Ecco qua Speriamo che arrivi presto il ferro perché ho bisogno per farne Ne ho bisogno per farne quella torretta che mi piace un casino l'idea di avere una torretta che spara a vista ai nemici Allora andiamo un po' a vedere qui cos'è che potremmo ancora craftare Allora tipo questa metal chest vediamo a cosa serve Allora Moldor... ah niente è una più resistente chest Quindi da quanto di comfort però per il momento non voglio sprecare ferro perché ne avrò bisogno per craftare appunto lo steel Andiamo a vedere qua cosa abbiamo sbloccato da punto di vista delle armi Benissimo un sacco di nuove armi Vediamo qui ad esempio potremmo fare la steel sword Vediamo... eh sì grazie no no Non ne ho per fare la torretta non mi metto a farlo per la spada Però ecco questo potrei farlo che è il bastone da mago Ho giusto un mago quindi potrei darlo perfettamente a lui Ecco fatto Allora ho dato il comando quindi andranno a craftare la mia staffa da mago Qua sopra c'è uno zombie ma comunque niente di preoccupante Lui qua sotto sta ancora cucinando le nostre zuppe di pesce Che quindi tra poco saranno disponibili per darle ai nostri nani Quindi perfetto così Allora vediamo un po' cosa possiamo... Urca però vedo che qua sta arrivando anche un bel bestione Quindi meglio chiudere perché questo ce le può anche spaccare facilmente le porte Quindi ok Allora andiamo a vedere a che punto siamo con la nostra torretta Quindi vediamo se sono arrivati col ferro Benissimo ok possiamo cominciare a craftarci un po' di steel Un po' d'acciaio ecco qua Allora due di ferro e due di carbone Diamogli quattro comandi quindi Aspettiamo finalmente che possono farci il nostro steel Allora è arrivato anche il fantasma rompipalle Però comunque niente di preoccupante Allora vediamo qua sotto perfetto Ottimo tutti e tre belli produttivi così vi voglio ragazzi Ottimo ok Tutti e tre che stanno lavorando Ci stanno facendo ognuno qualcosa Quindi chi il pesce, chi lo steel, chi il bastone Ottimo Allora aspettiamo che finiscano Ok No come Lo fa la butta per terra Ma no torna a prenderlo Oh Ah ecco Lo fa e poi lo lascia dire Boh Comunque Urca No 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 è tornato un nano Andiamo ad aiutarlo qua fuori Non mi ricordavo che c'era fuori un nano Perché gli avevo dato effettivamente il comando Di andare a prendere dei cinghiali e delle pecore a destra Della mappa Da questa parte perché mi servivano per fare ancora Delle armature per i nostri nani Per cui servono delle pelli E quindi mi ero dimenticato che era di ritorno Cavolo Vai vai ragazzi aiutatelo Perfetto Eccoli gli arcieri a distanza Che cominciano a massacrarlo con le loro frecce Cacchio sono in tre Sono in tanti stavolta In genere non arrivano così tanti Perché comunque le Le tombe le ho già fatte fuori da un bel po' Vediamoci un po' questa battaglia Ok Sembra che ormai abbiano vinto i nostri nani Ne manca solo uno Bene 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 Ok Minaccia neutralizzata ragazzi Manca solo il fantasma Ok Allora aspettiamo che ci riportino la porta Che è lì per terra Così la riposizioniamo subito Ecco qua Là Ok Allora dato che il nano è tornato con le pelli Che gli avevo chiesto Effettivamente possiamo andare anche a craftarci Un po' di armature Vediamo un po' qua Quante riusciamo a farne Però non l'elmo ma proprio l'armatura Farei Eccola qua Eh no solo una perché abbiamo soltanto tre pezzi di pelle Nonostante sia tornato Ne ha portate poche Ok benissimo Allora andiamo subito a darla Che abbiamo creato una nuova armatura Andiamo a vedere chi ce l'ha ancora di legno Tipo questo Il primo che ho trovato Eccolo qua Bene Ok Allora vediamo un po' la situazione Qua sotto si sono finalmente rimessi a lavorare Per crearci i nostri oggetti Che abbiamo richiesto Qui come vedete ragazzi Il comfort è aumentato del 43% Però Neanche poi tanto Insomma un'altra volta eravamo al 42% Continuo a mettere oggetti Però non è che salga molto velocemente Diciamo Allora Vediamo un po' Qua sotto io ho bisogno ancora di metallo Quindi andrei a chiedere di prendere altro metallo Vediamo dove troviamo del metallo Ecco allora questi Li prendiamo Così E li metto anche sotto questo qua Così almeno si aiutano con quello lì Con l'impalcatura E qua sopra c'è dell'altro metallo Prima gli avevo detto di toglierlo Però va bene Prendiamo questo qua Che vedo che comunque non ce n'è tanto in giro Quindi cominciamo a sfruttare questo Benissimo Eccone un altro qui E un altro qui Sfruttiamo il più possibile metallo che troviamo Eccone un altro lì No quello è carbone Però ci serve anche questo Serve tutto quanto Quindi Finché non vanno a raccogliere tutto il carbone dall'altra parte Meglio chiederglielo lì nei paraggi Allora Where is the food ancora Quindi mi sa che hanno ancora fame Andiamo a vedere Di dare altro cibo Hanno creato le quattro zuppe Mi stanno craftando ancora Ora però cominciamo a mettere questo Perché hanno già finito il cibo Magari dovrò craftare anche il tavolo più grande Così almeno possiamo mettere più cibo contemporaneamente Altrimenti qui Dobbiamo sempre stare dietro Al loro Adesso cominciano anche a crescere Diciamo in numero Quindi Hanno sempre più fame E consumano sempre di più ovviamente Allora Lui sta ancora Craftando le Le zuppe di pesce Vediamo se possiamo magari Già andare a craftare La nostra torreta Oh si Finalmente Possiamo farla ragazzi Ok Non ci credo Possiamo finalmente Mettere tutto quanto Per creare La nostra torretta Antinemico Ok mettiamo qua Lo steel Finalmente L'olio qua Allora lo steel Finalmente abbiamo quattro Eccolo qui E craftiamo Benissimo Dai 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 Fatemela subito ragazzi Quasi quasi andrei subito a craftare Un altro arco Così almeno Ne crafterei giusto un paio Magari la mettiamo dall'altra parte Vediamo un po' Come difenderci sempre di più Dai nemici Allora vediamo un po' qua Cosa manca Mancano i nail Le Eh però non abbiamo ferro Quindi dobbiamo aspettare Che ci riportino il ferro ragazzi Ok stanno già scendendo A prenderlo Prendetemi tutto il ferro Che trovate ragazzi Qua sotto Vi ho dato il comando Quindi a posto Non ci resta che Aspettare Allora Intanto vediamo che Il nano dovrebbe scendere A cominciare a farci La nostra torretta Eccoli Grandissimo Lì ha lo smite Cos'è successo Chi è che ci sta attaccando Non ho capito Però qua è nato Anche un altro mostro ragazzi Là sotto Quindi bisogna stare attenti Che non scavi verso i nostri nani Perché altrimenti È anche abbastanza difficile Da buttare giù Allora Aiutiamoli con un po' di scalette Che se no qui cadono Anche se qui Gli ho dato il comando Di metterlo mezz'ora fa Praticamente Non l'hanno ancora portato Però vabbè Allora Vediamo qua A che punto siamo Abbiamo già fatto Altre due zuppe di pesce Le mettiamo qui sul tavolo E lui Ha quasi finito Di craftarci La torretta Quindi andrei A creare Lo spiazzo qua Che la vorrei mettere qui Così almeno ci difende Anzi Togliamo tutti e due I cespugli Perché non so Quanto sarà grande Questa torretta Ok Vediamo che sta finendo Di craftarla Perfetto No ma perché la lascia Per terra Cioè loro Finiscono di craftare E poi buttano per terra Ok l'ha preso Quell'altro Meno male Allora che sta succedendo Qua Ah ok niente C'era un fantasma Quindi che ci stava attaccando Però l'ha ucciso Perfetto Vai raccolleci tutto Il ferro Che ci serve per craftare No occhio Ecco è caduto Vabbè Perché devo fare più scale Ragazzi però Adesso sto risparmiando Per creare altre cose Per quali servono sempre Il legno Allora Intanto però Noi andiamo qui a vedere Cosa possiamo craftare Ancora Vediamo un pochino qua Tipo questa ricetta qua Per la farina di grano Allora la farina È processata con il meal Dal grano Ed è utilizzato Per cucinare delle torte Quindi andiamo a vedere Se possiamo fare La farina Allora vediamo un po' qua Che dovrei avere comunque Il grano Eccolo qua Benissimo Due E tre Ah ok Sì sì ho capito Bisogna fare il milestone Prima Però io mi ricordo Che l'avevo già craftato Però non l'ho ancora posizionato Perché mi sono dimenticato Allora Dovrei averlo già fatto Quindi andiamo a vedere Eccolo qua 1000 Perfetto Sì infatti ce l'ho Eccolo qui Eccolo qua Ok Mettiamolo qua Però questo qua lo metterei a pian terreno Perché la macina qua mi sa più di una cosa da interno fattoria Quindi la metterei qua a pian terreno Che mi ispira di più Allora adesso appena ci porta il 1000 Ce lo mette lì Cominciamo a craftare un po' di farina Così potremo fare delle torte Ok Allora Andiamo allora a craftarci la nostra farina Però adesso non mi ricordo dov'era Quindi la prendiamo da qua Dov'è che è? Ah eccola qua Sì era qua sopra Allora grano Eccolo qui Uno Due Tre Vai Uno Due Ma sì dai tre Facciamo tanta farina Così poi la utilizzeremo Abbiamo una bella dispensa Allora Prima avevano finito di craftarci la nostra torretta Quindi andiamo a vedere un attimo Ok no Non è per terra Perché oggi ragazzi non è scontato Vedendo l'andazzo la lascerebbero per terra Quindi andiamo un attimo a vedere Se l'hanno raccolta E possiamo prenderla E metterla dove dicevamo noi Cioè vicino al ponte No Allora dice ancora zero Quindi significa che Qui per terra non c'è Quindi vuol dire che l'hanno caricata su gruppone E sono partiti per fare qualcos'altro Da un'altra parte Dai ragazzi Portatemi a casa la mia torretta Che la voglio provare troppo E mo vallo a trovare Chi ce l'ha Questo togliamolo No Allora Magari da quest'altra parte Eh no Non lo so Mi sa che è partito fare qualcos'altro Chissà cosa gli avevo detto di fare Niente Allora lui si è messo a fare la nostra farina Mentre aspettiamo che ci riportino i nostri materiali Perché Se no non possiamo avanzare Vediamo se possiamo mettere Io mi ricordo che avevo messo dei fiori Avevo craftato dei fiori Per abbellire un po' la casa Eccoli qua Flower bed E tanto che non sappiamo cosa fare Perché dobbiamo aspettare che ci riportino le cose Mettiamoli magari qua in casa Per abbellire un po' Poi magari se un domani danno fastidio Li sposto in giardino Creiamo magari un Un giardinetto di fuori E li mettiamo fuori Per il momento Per il momento mettiamoli qui dai Ok Allora il nano è di ritorno Però non sembra che sia quello che Ha sulle spalle la torretta Ok si mette a mettere i nostri fiori Magari è quello che sta arrivando Non lo so Non lo so O forse è quello ancora dietro Eh buono Non riesco a riconoscere la torretta No questo qua non credo Perché aveva del ferro Non riesco a riconoscere la torretta Come forma sulle spalle No niente Allora Vediamo un po' Ehm Qui cosa possiamo fare Torretta Non c'è ancora Quindi non è ancora tornata Magari ce l'aveva lui Vediamo No Ma ragazzi ma chi ce l'ha sta torretta Ma me l'avete fatta alla fine Beh Comunque cominciamo a craftarci Degli altri chiodi Perché voglio subito Craftarmi un'altra torretta Per avercene già un paio E difenderci per bene Che dovremmo già poterla fare Ecco fatto Sì perfetto Allora legno Ce l'abbiamo Uno e due L'arco Ok I chiodi appena fatti Le planks Ne abbiamo otto Quindi a posto così L'olio è l'ultimo Quindi dovremmo craftarcelo Ed ecco qua lo steel Perfetto Vai Ok craftatemi un'altra Certo che poi se non ce la portano a casa Non potremo mai utilizzarla Però vabbè Prima o poi arriverà Dai Ok ragazzi Scendete a farmi la seconda Torretta Ecco magari ce l'hanno questi Ecco magari questo qua Ecco mi pare di vederla sotto Magari ce l'ha lui Dai speriamo che ce l'abbia lui Vai 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 Dai controlliamo Speriamo Vediamo un po' qua se ce l'abbiamo Benissimo ce l'abbiamo Ottimo Ok mettiamola qua Al posto del tetto E andiamo a posizionarla Dai bella 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 Ok perfetto Non si scherza un cazzo ragazzi Cominciamo a diventare Cattivi sul serio Ecco magari da questa parte però Non so se metterla Perché sarebbe poco efficace Dato che se la mettiamo di qua C'è tanta terra E dei cunicoli qua sotto Si incastrerebbero le frecce O qualsiasi cosa sparasse Si incastrerebbe Ok installata Ma si muove anche ragazzi C'è ciao Qui alta tecnologia ragazzi C'è qui E' un salto tecnologico Mica da ridere Allora Intanto che gli altri ci Crafteranno Anche la seconda torretta Andiamo un attimo A vedere cosa possiamo Craftarci ancora Allora Tipo sieve Cos'è Andiamo a vedere cosa serve In crazy defense Miller skill Ah no 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 Per il momento no Perché non ho ancora un Miller Quindi Andiamo a craftarci magari questo Serve della corda Ma dovrei avercela Cioè dovrei almeno avere la lana Ecco si infatti ce l'ho Abbiamo ben 4 a posto Allora Craftiamoci le corde Che poi andiamo a farci Il solid backpack Che dicevo all'inizio Così i nani possono portare Ancora più oggetti Aumenta ancora di più La quantità di oggetti Che i nani possono portare Contemporaneamente Ecco Dovremmo craftarci ancora Delle planks Quindi andiamo subito a farcele Tanto legno dovrei avercene Beh insomma mica tanto Ce n'ho 10 Quindi dobbiamo anche andare A cercare del nuovo legno Perché comincia a scarseggiare Vai Ok Allora andiamo subito a cercare degli alberi Uno lo trovo qui Cat Si E no Qua sopra no Perché sono abbastanza irraggiungibili Dovrei mettermi lì a craftare Qualche scala E mettere dei supporti di terra Quindi no Oh qui va quanti ce ne sono Allora Facciamo lì arrivare di qua Uno Due Galina levati Perché se no mi dai il comando Di venire ad ucciderti E non è una bella cosa per te Ok Così almeno abbiamo un bel po' di legno Da prendere Qui lui Qua sotto Sta facendo le nostre planks Che almeno sono disponibili A breve Qui mettiamo tutto il pesce Che hanno craftato E andrei a craftare anche delle punte Per la difesa Quelle Che abbiamo già craftato Anche la volta precedente Ecco fatto Così magari le mettiamo sulla sinistra Visto che sulla destra Utilizziamo entrambe le torrette Andiamo a rafforzare la difesa In questo modo Non sono molto efficaci Perché c'è bisogno che il nemico Le attacchi E quindi Se non attacca Diciamo che non fanno niente Però dai Meglio di niente Però qua Non mi convincono Perché in genere i nemici Passano da sopra E non da sotto Quindi togliamo questo E diciamo di togliere Il cespuglio E poi lo metteremo Là sopra Al posto del cespuglio Ok Benissimo così Allora Vediamo qui a che punto siamo Lui sta ancora Craftando farina Perfetto Perché le abbiamo detto Di farne un bel po' Ovviamente prima Quindi ancora dietro Loro Sembra che abbiano finito Di craftare Tutto quello che dovevano craftare Quindi io intanto Metterei Un'altra poltrona Che Abbiamo già messo Ne ho già messo un paio Qua sotto Come vedete Ne mettiamo una terza E lui dovrebbe portare La nostra seconda torretta A sto punto Ok Portata Benissimo Quindi adesso andiamo a metterla Di fianco Alla prima La metterei proprio Sì Lì di fianco Dove c'è adesso La lumaca Adesso andiamo a metterla lì Ok Fatto Ok Benissimo Quindi adesso Dovrebbe arrivare Ok Abbiamo anche Completato Il task Ragazzi Benissimo Ecco che si colora di verde Ottimo Ok Andiamo a vedere qua sotto Cos'è che possiamo Ancora craftare Magari il long bow Però ci manca Lo stile Andiamo a vedere Di craftare ancora lo stile Ok Perfetto Uno Due E anche il carbone Vai Uno E due Perfetto Così facciamo ancora Un po' di stile Perfetto Chi è che è attaccato Urca Contro il bestione No 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 Da solo Cazzo No non scappare di lì Ma no ma di lì No Dall'altra parte Ah dai Beno male Lo lascia andare Meglio così Meglio così Ok bene 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 Dai nano Vai a mettere la seconda torretta Cazzo ragazzi Scena epica Il nano deve arrivare A installare la torretta Prima che arrivi Lo zombie Vai Ce la puoi fare Vai Veloce Sì sì dai Ce la fa Ce la fa Ce la fa Ce la fa Bene 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 Ottimo Appena in tempo Vai Dai Va come lo stanno massacrando Bene bene Dai lo stanno riempiendo di frecce Ottimo ottimo Benissimo Dai grande Ce l'ha fatta il nano Cioè si merita Una porzione in più di Zuppa di pesce Ok Dai 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 Eh resiste comunque Il bestione qua è forte Bene Grande 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 nano Sei un grande Cioè ha salvato il culo a tutti Benissimo Il mostro giaceva sotto sul fondale marino Vabbè del laghetto diciamola Mettiamola così Allora Vediamo un po' qua sotto Lui sta andando Sembra che stia andando a dormire E qua cos'è che possiamo craftarci Non hanno ancora fatto lo steal Quindi dobbiamo aspettare che facciano lo steal Ecco lo stanno facendo qua sotto Perfetto Perfetto E niente Dobbiamo aspettare che ci portino le cose Quindi ecco è arrivato anche un fantasma Però ormai ragazzi I fantasmi non li cagliamo neanche più Perché tanto Sono Fanno tanto casino Ma alla fine la minaccia è realmente inesistente Perché non fanno praticamente niente Qui hanno tolto il gespuglio Quindi vado a mettere le punte difensive in legno Perfetto Il nano Intanto Il nano che ha praticamente ucciso e difeso la nostra casa Dallo zombie gigante Insieme alle torrette Nella scena epica Se la sta ronfando nel letto di lusso Però se l'è meritato Dai Cioè Ha fatto veramente un'impresa eroica Sia ad installare che ad uccidere lo zombie Ok Il nano ha portato le due barrette di acciaio I due lingotti d'acciaio E quindi andiamo a vedere cosa possiamo craftarci Allora volevamo fare l'arco Però quasi quasi Invece che l'arco farei la spada Vuole 4 Steel Vediamo quanto danno fa Fa damage 25 Ma si dai Quasi quasi Prenderei tutto lo steel Lo userei per fare una bella spadona Dai Vai Ok Abbiamo dato il comando Perfetto E quindi Niente Andiamo a vedere se possiamo craftare No Perché non abbiamo più Qui abbiamo Green di stone Vediamo cosa In crisis Benissimo Benissimo Sì sì lo facciamo subito Allora Sabbia Stone E iron Benissimo Ok Questo praticamente Lo andiamo ad equipare Ad uno swordsman Che praticamente aumenta Le capacità Le capacità dello swordsman Di essere più forte Appunto Cioè aumenta la skill Di swordsman Per chi è uno swordsman Appunto Niente Non ne ho più di swordsman Quindi questo Andiamo a dargli Il backpack E poi abbiamo creato Anche il solid backpack Che me ne ero anche Dimenticato Lo andrei a dare A qualcuno Ecco magari Lo andrei a dare All'hunter No però aspetta Magari c'è qualcuno Che magari Mina un po' di più Può portare un po' più cose No però il miner Gli ho già dato questo Kleinberger Queste cose qua Cuoco mago Magari Possiamo darlo a lui No 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 Fisher no No dai va bene Andiamolo a dare All'hunter E basta Ok va bene così Poi mi ricordo Che abbiamo anche Craftato Il bastone da mago Quindi andiamo a cercare Il mago Eccolo qua Cuoco mago Quindi andiamo a dare A lui il bastone Ecco qua Ok perfetto Andiamo un attimo A controllare Quindi che Gli altri abbiano già Delle armi avanzate Se no gli do La mazza di ferro No ok Ce l'hanno già tutti Quindi niente A posto così Prossimo che arriva Gli diamo la mazza Benissimo ragazzi Allora Credo che per oggi Possa bastare così Quindi ragazzi Io vi ringrazio Di aver visto questo video Spero che vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Mettete un mi piace E ci vediamo alla prossima Ragazzi Ciao